Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di fragole con crumble di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fragole, farina di tipo 00, yogurt alla fragola, olio di semi di girasole, uova, zucchero, sale, la scorza di limone, lievito per dolci vanigliato, vanillina e per il crumble burro, mandorle pelate, zucchero e farina di tipo 00. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il crumble. Mettiamo all'interno del boccale la farina, lo zucchero, le mandorle e il burro ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero, la scorza di limone, li facciamo pelverizzare per 15 secondi a velocità 10. finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, le uova, lo yogurt alla fragola, l'olio, un pizzico di sale, la vanillina ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Aggiungiamo il lievito. facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. trasferiamo il composto in una taglia rettangolare 28 per 20 centimetri. adesso mettiamo sopra le fragole che abbiamo precedentemente infarinato per evitare che scendano giù e il crumble. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta di fragole con crumble di mandorle grazie e alla prossima ricetta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti